A te nostre pries in Cielo e in Isis, Santificetur come tu, a te nostre pries in Cielo e in Isis. Giovedì 24 agosto alle 15 alla Pieve di Santa Maria con l'esibizione dei cori in gara, quasi raddoppiati rispetto all'edizione 2016. Dopo le prime due serate, la suggestiva Notte dei Cori e l'esibizione in Pieve del Coro Giovanile Toscano, il Guidonee, un festival anteprima del 65esimo concorso polifonico, è proseguito martedì 22 agosto alle 21 nella cornice della Pieve di Santa Maria con il concerto Esame Allievi Diplomandi, eseguito dall'insieme vocale Vox Cordis, diretto da Oberdammea Rini e da Serena Martino e con il concerto finale della Masterclass Busto Graden, gruppo vocale composto dai direttori allievi della Scuola per Direttori di Coro della Fondazione Guido D'Arezzo. E sempre martedì sera è andato in scena anche il polifonico off nella suggestiva terrazza della Fondazione Guido D'Arezzo con il concerto De Rasenabras Quintet. Grazie a tutti.